Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Bisogna non piacerti la mangi devo dire non fa non mi piace ok ok se devi andare tu di tua spontanea volontà non ci vai a schiena che non c'è giurano non c'è già la vostra si va il sushi per amara non c'è la lingua genna pasca per le carte meglio ea bastone griffo EHHHH!" TA LATTELLE!! Oggi TA LATTELLE!! Questa cotta è bel a genare quando fai un bagno no va beh una puttane mamma grazie per i beat bello maestro siccome era troppo impegnato ad ordinare l'MC glielo ripeto se un giorno vorrà venire in Puglia sappia che è mio ospite mi faccia sapere sottolineatura 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 hai stato trovato una femmina in dalla chat fammi capire casa chiesa chiesa casa oh frano oh attendo la patinta noi e non scassa il cazzo frate è buono guarda chi state che pensa che una chat ha conquistato la pagina e non c'ha fatto sta accendo in questa burga un po' non è troppo azzurro grazie a tutti 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 grazie a tutti